E' un'ascolto di chi? Nuccia, Ptolomeo, il Vescovo, e permetterci l'ascolto di quello che è il messaggio di Nuccia, che è un messaggio di speranza, indubbiamente, un messaggio di amore, un messaggio che ci aiuta nel nostro cammino spirituale. Allora, a questo punto vorrei dire proprio un grazie, veramente un grazie grande dal mio cuore, ma anche a nome vostro, l'Arcivescuo, che è stato presente al primo convegno, al secondo convegno, a questo terzo convegno. Questo è un grande segno di attenzione, di rispetto, di fiducia, di benevolenza, di condiscendenza, ecco, da parte dell'Arcivescuo nei confronti di questo nostro piccolo sforzo che stiamo facendo, di conoscere l'amore di Dio come si è manifestato in questa creatura Nuccia. La nostra sorella, che, come abbiamo potuto ascoltare dalla sua viva voce, era una innamorata di Dio e di tutto ciò che Lui ha creato. Di Nuccia ho sentito parlare quando frequentavo la quarta elementare, perché la mamma di uno dei miei compagni ne era parente. Più di una volta, mentre giocavamo, ci veniva chiesto di fare un po' di silenzio, perché la signora doveva telefonare a Nuccia, che definiva gioiello di ragazza. Qui ho conosciuto la signora Nuccia nel 1992, qualche mese dopo che avevo preso possesso della parrocchia di San Giuseppe. E l'ho conosciuto ecco in un momento un po' difficile della mia esistenza, perché il passaggio in quella comunità parrocchiale rappresentò per me un po' un trauma, perché ebbi difficoltà di ambientamento rispetto, diciamo, a un ambiente totalmente nuovo e rispetto alla mia personalità. E allora, ecco, io confidai in qualche modo, ecco, la signora Nuccia anche queste mie difficoltà. Lei mi vide che era turbato, che ero un poco turbato, e mi disse una parola grande, una cosa veramente che mi è rimasta nel cuore, e poi mi ha aiutato e mi ha consentito di riprendermi. E disse, dedicati alla preghiera, metti al centro della tua esperienza di sacerdote la vita di preghiera. E questo che stiamo vivendo, care sorelle e fratelli, è un momento di grazia. Io mi sento indegno ad essere qui a testimoniare un dono prezioso che Dio ha fatto a questo peccatore che vi sta parlando, rileggendo il testamento spirituale, quando attraverso i nostri microfoni, per opera della nostra collaboratrice Maria Spasari, quella notte trasmettemmo quel testamento, risentendolo e rivivendolo oggi, per rispondere alla domanda provocatoria che mi ha fatto Padre Pasquale, qual è l'emozione? L'emozione è quella di essermi trovato, io, piccolissimo, in una realtà più grande di me, che non ho valutato nel suo valore, nel momento contingente, in quei circa tre anni che ho condiviso con lei, di notte, a notte fonda. Lei, disse, Federico, la nostra trasmissione chiamiamola Beati gli ultimi. Ecco l'emozione, Padre Pasquale. Beati gli ultimi. Miei cari, con umiltà, desidero ancora entrare nelle vostre case con la speranza di poter far breccia nel vostro cuore, sollecitando la vostra coscienza e sensibilità ad aiutare i poveri, gli emarginati, i bisognosi, ragazze e ragazzi in difficoltà, famiglie disgregate. Ricordiamoci che c'è più gioia nel dare che nel ricevere e questo deve spingerci a prodigarci quotidianamente e con gioia in numerose e piccole azioni di amore verso coloro che hanno ricevuto dalla vita assai meno di noi. екcedstelliamo in numerose e piccole, grazie a tutti i nostri am streetlights, grazie a tutti i nostri ammorpi, Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' la sua volontà. Io sono la sua preferita. E non capivo. Ma come fai, dico, a sorridere? E' perché Lui è dentro di me. Io tutti i giorni dalla finestra vedo un pezzo di bosco, un pezzo di collina. Ci sono degli alberi. Ci sono alberi dritti. Ci sono alberi storti. Ma quando parte della natura e ognuno dà qualcosa, dà i suoi frutti, io sono un albero storto. E anch'io do i miei frutti.